Buongiorno a tutti, intanto un doveroso ringraziamento a Maurizio Cannone per l'organizzazione del Ray Italy per questo gradito invito e non posso che anche ringraziare il professor Sironi che mi ha preceduto e che ringrazio particolarmente non solo per le parole che ha detto ma anche per aver accettato di essere parte del comitato scientifico del Ray Innovation Lab, il laboratorio che insieme appunto all'Università Bocconi abbiamo fondato e che auspichiamo ma ne siamo certi grazie anche appunto all'autorevolissima partecipazione del comitato scientifico che possa contribuire veramente a far fare un passo avanti in termini di approfondimenti, ricerca innovazione all'industria nel suo complesso. Siamo a gennaio e quindi è corretto credo commentare brevemente i dati che stanno uscendo sul mercato nel 2019 che sono dati indubbiamente positivi dal punto di vista del commercial real estate nel suo complesso, è stato un anno record con oltre 12 miliardi di investimenti, lo è stato in generale per tutte le asset class, forse con l'unica eccezione ai centri commerciali che conosciamo bene le ragioni strutturali che stanno portando gli investitori ad avere un po' di perplessità su questa asset class, magari non del tutto motivata ma non è questa la sede per entrare nel merito, mentre logistica e tutto ciò che hotel e accoglienza hanno avuto un esploi straordinario che penso che sia tra l'altro una tendenza abbastanza strutturale e sicuramente la logistica è in grandissimo cambiamento e continuerà quindi per l'anno in corso a vedere un grande interesse da parte di investitori istituzionali, considero un segnale molto positivo, forse la vera ripartenza quella del settore degli hotel che quest'anno ha visto oltre 3 miliardi di investimenti e che continuerà indubbiamente l'anno prossimo e credo che sia un segnale estremamente positivo per il real estate, per questa asset class in particolare ma in generale per il paese perché significa che forse è veramente iniziato quel processo di consolidamento e di professionalizzazione dell'industria dell'accoglienza turistica che è assolutamente fondamentale anche rispetto a un tema più generale di competitività e quindi leggiamo in maniera molto positiva questo trend, non c'è dubbio che al di là dei deal che già abbiamo visto come l'ultimo a fine anno di Covivio sul portafoglio alberghiero molto importante è stato acquisito, questi deal portano in generale ovviamente anche un passaggio diciamo di gestione che segnala anche dell'interesse delle grandi catene internazionali verso questo tipo di investimenti, si potrebbe dire quindi tutto bene, io credo che per onestà intellettuale dobbiamo però dare una lettura meno scontata di questi dati anche per poter aspicare di fare ancora meglio quest'anno e credo che bisogna dare una lettura tale per cui questi dati sono comunque frutto di un interesse molto importante che c'è sulla città di Milano che ancora una volta dal punto di vista dell'asse class principale che sono gli uffici ha rappresentato la prima destinazione di investitori, Milano non è il caso di ripetere quali sono le ragioni per cui è estremamente attrattiva e continuerà a essere, si è messa diciamo in un percorso per cui sia le istituzioni che gli investitori collaborano e la competitività della città, l'attrattività è frutto di anni di visione coerente da parte del settore privato e del settore pubblico, chiaramente eventi come l'Espo, ora le Olimpiadi non sono che ulteriori acceleratori ma ci sono le condizioni strutturali anche di economia che sottende la regione che evidentemente spiegano l'andamento molto positivo nel mercato, l'immobiliare continua a essere comunque un asset class correlata al ciclo industriale e quindi qui la produzione cresce e tutto va bene, sappiamo che però l'Italia ha un problema strutturale di crescita e che il resto dell'Italia non va come la Lombardia e quindi ci dobbiamo porre il tema, sarà in grado veramente Milano di continuare a trainare gli investimenti tali da portarci a livello degli altri paesi, ancora il nostro commerciale l'Espo non è rappresentativo come lo è negli altri principali paesi e temo che la risposta non possa essere sì, Milano può certamente essere il principale mercato, può essere da tanti punti di vista rappresentativo delle cose da fare, può essere un modello ma poi occorre che il resto dell'Italia in qualche modo riparta. Abbiamo citato prima la logistica e l'hotel, sono due settori che per fortuna richiamano investitori in geografie diverse, la logistica è una logistica last mile e quindi per fortuna i consumatori sono da raggiungere rispetto a tutte le città sparse sul territorio, lo stesso dicasi per l'hotel, gli hotel ci sono le città d'arte, ci sono evidentemente distinzioni turistiche, però noi abbiamo bisogno che le principali asset class, uffici e residenza siano attrattive e lo siano attraverso tutto il paese. Come fare per arrivare a questo? Beh innanzitutto dobbiamo recuperare Roma, Roma è la capitale d'Italia, quest'anno i dati segnalano una minima di ripartenza di interesse, diciamoci la verità, perché gli investitori pensano e sperano che avendo anche un po' saturato il mercato di Milano e avendo anche raggiunto dei valori non accessibili per tutti i tipi di capitale, che Roma in qualche modo rappresenta una prossima opportunità. Naturalmente lo spieghiamo tutti però per far sì che questo accada Roma deve fare delle scelte, noi stiamo dialogando con l'amministrazione, sembra che comincino a esserci effettivamente da parte anche dell'amministrazione capitalina la visione di alcuni interventi macro che bisogna attivare, anche lì per esempio si parla degli scali ferroviari e non c'è dubbio che una pianificazione urbana che faccia riferimento ai principali poli di mobilità è un approccio intelligente, lo ha scelto anche il PGT di Milano, quindi in qualche modo di nuovo Milano è modello e quindi benissimo che Roma ricomincia a parlare di sviluppo urbano di gestione urbana. Per fare questo occorre poi anche però che il lato degli end user faccia delle scelte coerenti, noi sappiamo che Milano, basta guardarci intorno, i nuovi quartieri che sono stati sviluppati, che hanno rilanciato la città hanno visto anche ricollocazioni di funzioni diciamo che prevalentemente private ma anche pubbliche, quindi grandi banche, grandi società di consulenza, la regione hanno scelto di ricollocarsi in nuovi edifici facendo una scelta di edifici efficienti che indubbiamente hanno avuto delle conseguenze molto positive sulla produttività di chi ha fatto queste scelte, sulla riorganizzazione del lavoro, anche qui si potrebbe aprire un grande tema ma non abbiamo tempo. Chiaro che a Roma deve succedere la stessa cosa ma non ci nascondiamo che Roma è la capitale dell'Italia ma non è forse la capitale economica, le principali funzioni operativi sono quelle del settore pubblico e il settore pubblico fino adesso, almeno a Roma, non ha dato segnali di voler procedere in questa direzione, quindi una delle cose che si possono aspicare è che evidentemente nella gestione degli immobili pubblici oltre a ragionevolissime operazioni di efficientamento che sono in corso e vanno benissimo, si abbia il coraggio di pensare a delle operazioni più strutturali che insieme a quella che è sicuramente un momento di interesse e di attenzione da parte degli investitori privati portino a Roma a rilanciarsi con delle operazioni di larga scala, di questo c'è assolutamente bisogno e credo che se veramente il modello in Milano può servire a qualcosa deve servire proprio a far ragionare su quanto positivi possono essere gli effetti di operazioni di larga scala di questo tipo, quindi questo è sicuramente un aspicio, lo offro anche sul tavolo delle autorità presenti, il Ministro della pubblica amministrazione in particolare si occupa e ha come mandato quello della digitalizzazione, ora lo dico anche un po' come una battuta io sono andata a visitare il Ministro della pubblica amministrazione che è un edificio storico di grandissimo pregio ma assolutamente inadatto a ospitare uffici per smart working o comunque che offrano quel tipo di infrastruttura digitale di cui invece la pubblica amministrazione ha straordinariamente bisogno. Quindi un'operazione che portasse a creare dei federal building con quel tipo di concetto e di visione anche per la produttività della pubblica amministrazione liberasse invece i mobili in centro a Roma sarebbe un'occasione straordinaria di fare rigenerazione di aree che ne hanno bisogno e con tempo rimettere su mercato che è interessato a valorizzare gli immobili di grandissimo pregio ma che forse possono avere anche destinazioni nuove e diverse. Questo è un po' l'auspicio per l'anno che verrà, poi c'è il grande capitolo del residenziale, non voglio ripetermi perché lo faccio ad ogni convegno ma anche lì la rigenerazione del patrimonio immobiliare degli anni 50 e 70 quindi intere periferie delle città da rigenerare passa evidentemente per una visione politica di insieme che favorisca questo tipo di investimento. Le nostre proposte giacciono al Ministero dell'Economia e delle Finanze, speriamo che vengano quest'anno prese in considerazione, non sono incentivi, non sono capitali pubblici richiesti ma è la rimozione di banali disincentivi come dei tre abitati dell'IVA, è banale ma fa la differenza tra un business plan che sta in piedi e un business plan che non sta in piedi. È ovvio che a Milano non ce n'è bisogno tant'è che anche il residenziale sta avendo dei progetti di grande respiro per tutte le tipologie, so che oggi verranno presentati i progetti di nuove abitazioni, di student housing e va benissimo ma ancora una volta Milano non ha bisogno di incentivi pubblici. Il resto dell'Italia ha bisogno di una politica pubblica coerente e anche lì auspichiamo che veramente inizio l'anno, forse dopo le grandi tensioni della finanziaria, ci sia uno sguardo un po' più attento alle proposte che abbiamo fatto, che sono proposte di buon senso, che servono ad attirare capitali che sono già lì pronti ma hanno bisogno di rimuovere quel minimo disincentivo che oggi blocca gli investimenti. Il settore residenziale non ce nascondiamo è un settore macro, quindi va bene i 12 miliardi di investimento commerciale di estate ma se non ripartiamo veramente in maniera strutturale con gli investimenti in grandi piani di rigenerazione urbana dove la componente residenziale in affitto che oggi è la più richiesta sia finalmente soddisfatta, credo che un vero impatto sul PIL e di conseguenza anche sulla crescita del PIL che è il problema italiano non riusciremo a averlo. Quindi chiudo con questi auspici, ringrazio anche l'amico Jerusalmi che mi è stato legato in Borsa Italiana per l'ospitalità, la community da Real Estate è qui riunita, è l'inizio dell'anno quindi vogliamo vedere il bicchiere in mezzo pieno, abbiamo fatto un anno record, vogliamo fare un anno ancora più positivo. Ecco speriamo che ci sia veramente questo spirito di collaborazione tra settore privato, investitori e settore pubblico per un rilancio vero e che dia veramente una mano all'economia nel suo complesso. Grazie a tutti.